Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video! Allora, oggi in occasione per la festa della mamma, praticamente farò le cancellate da sola. Tre anni fa io l'ho provata a fare cancellate da sola, però il problema è che ho bruciato il ferro. Infatti la mia mamma si è fatta praticamente il regalo da sola. Vediamo adesso cosa riesco a fare, perché nel frattempo sono andata un po' avanti negli anni, quindi si presume che sono un pochettino leggermente cresciuta, quindi vediamo cosa esce fuori. Prima cosa, chiaramente rompo le uova. Do fatti il primo danno! ahah adesso metto lo zucchero prendo l'olio prendo l'olio prendo l'olio prendo l'olio prendo l'olio allora c'è stato bisogno dell'intervento di super mamma del santi cazzo terribile perché voi non la conoscete la mia mamma quando si arrabbia veramente terribile perché praticamente per poco non andava a fuoco alla cucina e quindi adesso per fare le cangellate la mia mamma mi starà vicino non vuole essere ripresa però ecco vedete la sua presenza quindi vi lascio immaginare che anche per quest'anno lei si deve fare cangellate praticamente da sola allora ragazzi io non so esattamente quello che sto facendo per mia madre che sta registrando ecco credo che non ho fatto danno per fortuna no l'unica cosa che il prossimo lo devi fare cucinare un pochettino di più ok ragazzi questo è il risultato finale chiaramente ho ricevuto un secondo richiamo da super gatto terribile perché non le ho fatte cucinare tanto infatti sono tipo così ma quello che conta è l'impegno che ci ho messo se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su e iscrivetevi a questo canale